Donna, showgirl, compagna ma prima di tutto mamma. Per Nina Mouric è sicuramente suo figlio Carlos Maria la cosa più importante della sua vita È per lui che la showgirl croata ha combattuto tante battaglie ed è stata la sua lontananza a farle vivere un periodo davvero terribile della sua vita Oggi, però, per Nina e Carlos è tornato il sereno. Forse anche memore di quanto vissuto in passato, oggi Nina Mouric si è lasciata andare ad una toccante dedica su Instagram, indirizzata proprio al figlio avuto con Fabrizio Corona Su una foto di Carlos Maria, attraverso le Instagram Stories, Nina ha scritto un lungo messaggio fatto di parole pregne d'amore per suo figlio Se sei buono la gente se ne approfitta, esordisce così la Mouric, che poi prosegue tanti grandi dirigenti, lo sai come sono arrivati dove sono? Si sono barcaminati in mezzo alla corrente Nina Mouric che la dedica per Carlo, non commettere i miei errori. Il lungo post di Nina Mouric per suo figlio Carlos Maria Corona continua con quello che vuole essere anche un promemoria per il futuro per il ragazzo ancora così giovane Non permettere a nessuno di dirti che non puoi fare qualcosa. Scrive la showgirl croata, che poi ammette, non fare con me, promettimelo. Io sognavo, ma mi sono lasciata distrarre Ero in attesa che succedesse qualcosa e che quel qualcosa era l'attesa, è la vita e va vissuta Sì gentile e abbi coraggio. Voglio vederti volare, angelo mio. Sono certa che lo farai Una vera e propria ammissione di colpa per la Mouric che spera che suo figlio non commetta i suoi stessi errori Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like